Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Mamma mia che genio politico, Petracca. Davvero degno della scuola di Ciriaco. Però, Maurizio, facciamo così. Giochiamo pure a fare gli statisti, tanto ci giocano anche De Mita Junior e, in par condicio, Valentina Paris. Ma per favore, lasciamo riposare in pace Don Sturzo. È vero che si chiamava Luigi, ma mica Luigi Famiglietti.